Siamo già in fase di programmazione per il terzo richiamo? Sì, perché insomma anche secondo quelle che sono state le indicazioni del commissario si sta ragionando sul terzo richiamo, sulla terza dose, in particolare per una categoria i fragili, che sono quelli che probabilmente ne avranno più bisogno a partire dai soggetti diciamo con problemi del sistema immunitario e poi io ritengo che anche sui sanitari che sono stati i primi a vaccinarsi ci potrebbe essere bisogno della terza dose. Quando si partirà? Ma è chiaro che adesso bisogna raggiungere l'80% e l'Abruzzo dovrebbe, se continua con i target di questi giorni, raggiungere l'80% intorno al 24-25 di agosto con la prima dose e diciamo nei primi 15 giorni di settembre con la seconda dose. Stiamo anche aspettando di capire se gli hub effettivamente dovranno chiudere alla fine di settembre e come bisognerà organizzarsi appunto anche per la terza dose. Il vaccino non rende immuni e quindi questi focolai che sono scoppiati soprattutto qui in provincia di Teramo, quello più grande ai prati di Tivo, sono un rischio fino a quando visto che le terapie intensive restano vuote e le terapie non intensive diminuiscono. C'è sicuramente un incremento dei contagi, ma d'altra parte la variante Delta ha proprio questa caratteristica. Il vantaggio del vaccino è che non ti impedisce di incontrare il virus, ma impedisce al virus di dare la polmonite. I ricoveri che abbiamo, 5 pazienti, ieri, stamattina credo che stanotte forse c'è stato un ricovero, sono tutti pazienti non vaccinati o vaccinati con una sola dose che hanno sviluppato la polmonite, per cui insomma mi sembra evidenti oramai i dati che confermano il fatto che la vaccinazione è l'unica arma a livello di prevenzione, oltre alle misure che bisogna mantenere, in particolare la mascherina. Siamo a buon punto, ci vuole un ultimo sforzo, tra l'altro noi stiamo mettendo in campo una campagna di comunicazione presso gli studi medici, presso le farmacie, dove invitiamo i cittadini che non sono ancora vaccinate a vaccinarsi. Grazie.